Sono molto arrabbiato, con me stesso, molto arrabbiato, perché a partita così non dovevamo farla. Poi potevano perdere pure al novantesimo 1 a 0, ma così no. So che nel calcio questo accade, pensate ieri Napoli, pensate alla Juve che vinceva 1 a 0 in 10 contro 11, con l'Inter si fa rimontare, va sotto senza fare un tiro. E Siena che perde in casa il campionato. Ora, perché il calcio fa di queste cose, però io penso sempre che debba succedere agli altri e non deve succedere a me. So che non è così, però io ho l'arroganza e la presunzione di pensare che a me non debba succedere. Allora mi dico che cosa non è andato, dove ho sbagliato, cosa ho fatto e quindi sono molto arrabbiato.